Ciao a tutti ragazzi sono Zizaveip e benvenuti nel mio canale. Allora oggi facciamo un altro video dedicato alla pizza scelta a sorteggio su Instagram, solo che stavolta invece dei voti presi dalle storie e dagli ingredienti più votati ho deciso di utilizzare un filtro che si chiama Che Pizza Mangio? Sto dando la voce fuori campo perché quando ho registrato il video tramite la registrazione schermo ho dimenticato ad attivare l'audio e quindi è disattivato. Adesso faccio partire il filtro e vediamo che pizza era uscita. Quindi nel frattempo qui stavo spiegando come funziona, voi aprite questo filtro mentre volete fare un selfie, toccate lo schermo, parte il sondaggio delle pizze e alla fine si ferma sulla pizza che dovete ordinare. Io è partito ed è uscita la patatosa. Dicevo siccome quando ho registrato il video ho attivato la registrazione schermo ma non ho attivato l'audio quindi sto dando la voce fuori campo perché non posso rifare il video visto che è un sondaggio, visto che è a sorteggio dovrei aspettare che riesce lo stesso risultato e far sì che sia reale. Invece tengo il video originale e ci metto la voce fuori campo. Adesso metto i vari hashtag, preordinerò la pizza al solito su Just Eat ed è una pizza che si chiama Coracino. Quindi adesso vi saluto e ci vediamo quando arriva la pizza. Qua ragazzi sono le 20 e 21 quindi con 6 minuti di ritardo è arrivata la pizza, sono arrivati i bomboloni, qua abbiamo lo scontrino, a differenza di quello c'è solo quello di Coracino, non c'è quello di Just Eat dove dice che abbiamo preso il dolce Coracino 350, margherita patatine 650 per un totale di 10 euro. Andiamo ad aprire la pizza e la pizza si presenta così. Si è schiacciata un po' di lato però va bene, il bordo non è male. Forse qua potrebbe essere un po' più cotta, a differenza dell'altra di Fatevobis che potrebbe essere un po' meno cotta però a guardarla sembra buona. I bomboloni li apriamo in un secondo momento perché altrimenti si raffreddano visto che sono belli caldi. Quindi ragazzi adesso ce la mangiamo e quindi la proviamo insieme. Eccoci qua ragazzi, questa è la nostra pizza, adesso la andiamo a provare. Allora l'altezza del cornicione mi convince, non mi convince che sia molto molto bianco. Ecco, a differenza dell'ultima volta di Fatevobis che era un po' troppo cotta, questo paura che per sfornare, visto che è sabato, la vigilia di Pasqua ci avranno magari diverse ordinazioni, le hanno uscite un po' prima. Comunque andiamola a provare, l'aspetto comunque in generale è bello, loro sono una pizzerina apoletana quindi ti fanno questo stampo con il bordo alto già di suo perché per tradizione sono così. Mi dispiace che da questo lato sia venuta schiacciata perché era sbattuta contro il cartone, comunque tagliamola da questo lato. La proviamo, poi la io la finirò e poi ci rivediamo per provare i bomboloni che un dolcino ci sta. Allora è un po' troppo sottile, c'è il cornicione in ganna perché se vedete la pizza è un po' troppo sottile. L'altra volta Fatte Bobby sarà stata meglio, era una pizza diversa però le patatine non mi convincono, si sono asciugate perché sicuramente sono state fritte e poi infornate. Quando devi fare una pizza così le patatine le metti dopo, invece è presente quella patatina che tu la friggi, la lasci là e cominci a perdere consistenza. Mangiamo un'altra fetta. No, le patatine sono completamente bocciate, sembrano le patatine che quando prendete il pollo o qualsiasi cosa vi rimangono patatine e le mangiate l'indomani. La sensazione è quella. Non mi piacciono assolutamente le patatine. La pizza, sì, è un po' sottile la sfoglia. In bocca un po' gommosa. Devo dire, sarà perché siamo alla vigilia di Pasqua. Sarà che magari sono pieni di ordini perché vigilia di festa e nessuno può uscire. Però questa è una pizza che è mangiabile. Non dico che è brutta, però è mangiabile, non è buona. Questa è una pizza da 5. Ragazzi, gli daremo un'altra possibilità a Toracino sicuramente in un altro periodo perché io l'ho preso altre volte e di solito la pizza è buona. Vediamo, quindi ragazzi, su questa pizza che alla fine si lascia mangiare, non è che dici è brutta. Le patatine, fortunatamente si trovano in mezzo alla pizza e le sentite di meno, però le patatine non sono buone per niente. Alla fine, questa è una pizza da 5. Le lievitazioni secondo me sbagliate, cottura troppo poca, ci volevano altro po' di cottura, infatti se vedete è bianca e molliccia dentro. Le patatine sembrano vecchie, come se fossero del giorno prima. Una pizza, ripeto, da 5 per generosità, ma gli daremo un'altra occasione. Se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale di Zisaveip attivando la campanella. Iscrivetevi al mio Instagram, Zisaveip è tutto attaccato, iscrivetevi al mio Instagram personale dove lancio questi sondaggi e dove faccio, diciamo, questi giochi, questi esperimenti per far decidere al caso o a voi che cosa devo mangiare o come devo fare la mia pizza. Iscrivetevi al mio Instagram personale, Luigi, trattino, basso, pa, di Palermo, 87. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.